Eleonora Chiais è una ricercatrice del progetto Nemosancti, che come sapete è un po' alla base della nostra idea di lavorare quest'anno sul tema delle autobiografie spirituali. Eleonora ha un dottorato in linguaggi e scienze della comunicazione dell'Università di Torino e ha pubblicato vari saggi specialmente relativi alla moda e al rituale. E' anche docente presso la nostra università di moda e costume e di forme e linguaggi della moda. E fra l'altro questa attività accademica affianca l'attività come giornalista. I suoi interessi di ricerca includono i fashion studies, possiamo dire specialmente la semiotica della moda, e lo studio semiotico di costumi e rituali. Ha anche un interesse nella teoria del personaggio e infatti è autrice di un e-book che si intitola C'era una volta un principe azzurro, che è un saggio sulla costruzione della figura del principe azzurro tra racconti e mass media. All'interno di questo progetto IRC in Mosanti si occupa dello studio semiotico dei meccanismi con cui si costruisce la figura dell'eroe in diversi contesti sociali. Io la ringrazio per il suo contributo e le lascio la parola. Il suo intervento si intitola Santi 2.0, l'autobiografia spirituale formato WWW. Grazie mille a voi tutti. Oggi io vi parlerò, come giustamente diceva la professoressa Ponzo, vi parlerò di Santi 2.0, quindi dell'autobiografia spirituale in formato WWW. Quindi insomma di tutta una serie di racconti che sono racconti scritti in prima persona, quindi autobiografici appunto, che vengono creati e condivisi per raccontare online, quindi evidentemente in formato WWW, i dettagli della propria spiritualità. Oppure per meglio dire della propria esperienza spirituale vissuta, quindi si tratta di racconti creati proprio con lo scopo di condividere con una platea che si vuole necessariamente molto ampia i dettagli di un percorso che viene fotografato nel suo momento di svolgimento. Prima di entrare però nel merito dell'analisi dei casi concreti dell'autobiografia in formato virtuale e con delle indubbie vedremo valenze spirituali di costruzione proprio spirituale, vi propongo ancora una volta di riflettere su due famose citazioni che spesso sono state proposte all'interno di questo nostro ciclo di incontri. E quindi insomma si tratta sostanzialmente di due citazioni che ormai conoscete a memoria ma che io vi ripropongo qui per iniziare col piede giusto. La prima viene dal diritto alla biografia di Lopman e quindi in pratica ci propone il problema o comunque la condizione di partenza per cui esistono degli uomini che hanno diritto a una biografia e degli uomini che invece in una determinata società a questa biografia, ha all'idea di rimanere diciamo immortali tramite lo strumento della biografia, non hanno diritto in buona sostanza. Quindi ogni tipo di cultura, ci ricorda Lopman, elabora i suoi modelli di uomini senza biografia, scusate c'è un refuso, e di uomini invece con una biografia. Dall'altra parte però noi qui stiamo parlando di biografie scritte in prima persona, quindi come abbiamo detto più volte invece di autobiografie. E quindi questa seconda citazione è tratta da Les Jeunes, quindi dal patto autobiografico e ci interessa perché ci fornisce una definizione che è una definizione completa di quello che si intende come autobiografia. Quindi l'autobiografia, ci dice Les Jeunes, è il racconto retrospettivo in prosa che una persona reale fa della propria esistenza quando mette l'accento sulla sua vita individuale e in particolare sulla storia della sua personalità. In questo senso quindi queste due definizioni che restano a mio parere squisitamente attuali quando si tratta di testi a stampa, come ci hanno dimostrato anche i tanti interventi che hanno preceduto questo mio di oggi, queste due definizioni, vi dicevo, devono essere in qualche modo però reinterpretate quando si va a guardare un media diverso da quello del testo scritto su cartaceo, quindi del testo in qualche modo analogico. Quindi guardando al testo digitale queste due definizioni in qualche modo necessitano di essere reinterpretate. Perché noi parliamo di autobiografie spirituali online. Appunto il tema di questo intervento è questo, quindi racconti scritti in prima persona, lo dicevamo autobiografici, per raccontare i dettagli della propria spiritualità. È interessante, e ve lo dicevo da prima ma qua lo riprendo, è interessante dire subito che questa spiritualità alla quale faccio riferimento è normalmente una spiritualità nuova che rappresenta quindi sostanzialmente la conquista di uno status diverso da quello del passato, anche del passato recente. Questo nuovo status che l'autore della narrazione racconta si propone quindi sostanzialmente come un traguardo, un traguardo che viene conquistato alla fine di un racconto, di un percorso. In questo senso questo traguardo ci ricorda un po' quello che ci spiegava Ugo Volli in questo stesso seminario. Quindi questo traguardo ci viene presentato come un obiettivo che in qualche modo è condiviso tra l'autore della narrazione e il lettore della narrazione stessa. Quindi se l'autobiografia, ci diceva Volli, è un racconto in prima persona che dunque fa suo il punto di vista dell'autore protagonista in base alla regola di partenza per cui chi meglio di chi l'ha vissuto sa che cosa è successo, ovviamente il destinatario si trova facilmente a condividere l'oggetto di valore di questa narrazione. Ed è proprio per questo che, ci diceva ancora Volli, è molto facile, e su questo ritorneremo, è molto facile una pedagogia fondata sull'autobiografia. Perché il lettore, nel momento in cui si interfaccia con il testo, sia questo un testo analogico digitale, per il momento questa differenza ci interessa fino a un certo punto, nel momento in cui si rapporta con questo testo, vive quasi sulla sua pelle tutti gli errori e i passi che vengono compiuti dal protagonista. E poi si trova molto facilmente a volerne condividere anche la sanzione positiva finale. Evidentemente questa idea del percorso condiviso tra narratore e fruitore del testo non cambia quando dall'analogico passiamo al digitale. In entrambi i casi si tratta di testi scritti in prima persona che vogliono fin dal primo istante proporsi come esemplari, evidentemente. E quindi vengono fatti, redatti, proprio perché chi li ha vissuti e ha scelto quindi di raccontarli vuole proporsi come un esempio da seguire. O, ancora meglio, vuole mettere la sua esperienza al servizio di eventuali imitatori fornendo loro quella che è a tutti gli effetti una testimonianza. Attenzione perché la parola testimonianza è una delle parole chiave della spiritualità cattolica che noi lo sappiamo è tipicamente orientata alla condivisione. Quindi, se ci pensate un attimo, tutti, quasi tutti, le analisi dei testi che ci sono stati proposti nel corso del nostro seminario finora raccontano esattamente di questo, da Sant'Agostino in poi, semplificando, si tratta di racconti che testimoniano un passaggio da un prima che si vuole dissoluto, sbagliato, colmo di peccati o comunque incompleto, in qualche modo incompleto, a un dopo che invece al contrario è felice perché è finalmente un dopo che equivale al presente e che si vive come consapevole, come pieno. Questa consapevolezza, questa trovata consapevolezza non è però raccontata perché me la tiro io che ce l'ho fatta e vi racconto che io ce l'ho fatta e voi no, ma al contrario perché ce lo diceva Massimo Leone quando ha parlato da questi stessi schermi, c'è quell'imbarazzo del parlare di sé che è in qualche modo tipico di quello che si può definire, mi perdonerà, no, mi si perdonerà per la semplificazione, si può definire l'understatement classico del cattolicesimo, quindi io non racconto qualcosa perché voglio sentirmi dire che sono stato molto bravo a fare questo percorso. Io lo faccio perché spero di poter essere un esempio per qualcuno che magari si trova nello stesso, a vivere gli stessi problemi, le stesse difficoltà che facevano parte del mio prima e desidera anche lui raggiungere un dopo che si vuole più felice evidentemente. Massimo Leone ci diceva che un santo non può parlare bene di se stesso e effettivamente nella letteratura che possiamo definire autuageografica esiste, come si diceva, una sorta di topos dell'autodisprezzo. Qui però non si sta parlando appunto di questo, non si sta parlando di voler condividere un'esperienza per sentirsi bravi di questo traguardo, per sentirsi in qualche modo esemplari nel senso del termine fine a se stesso. Bensì piuttosto si tratta di trovare una propria ragione d'essere nel volersi proporre appunto come un esempio per qualcun altro. In sostanza l'autobiografia raccontata online e quindi condivisa con un pubblico che si vuole il più ampio possibile è in sostanza una restituzione. Il Signore mi ha fatto la grazia della conversione e io adesso che finalmente sono felice e soddisfatto devo, voglio mettermi al servizio degli altri per agevolare questo percorso anche in loro. Questo status, questo nuovo status che viene conquistato è di per sé una sanzione positiva nel raggiungimento della quale è chiaro io non ho nessun merito, io che scrivo non ho nessun merito perché a renderla possibile questo nuovo, a rendere possibile il raggiungimento di questo nuovo status e dunque questa sanzione positiva altri non è stato se non la grazia divina. Quindi io semplicemente mi sono fatto contenitore di questa grazia e quindi desidero raccontare che cosa mi è successo. Questo per quanto riguarda quindi la volontà del racconto, la volontà del racconto tramite un mezzo di comunicazione qual è internet che è un mezzo di comunicazione decisamente innovativo rispetto ai mezzi di condivisione di storie di conversioni che abbiamo visto finora. Perché, allora, nella ricerca della quale parleremo oggi insieme ho lavorato su un corpus di racconti autobiografici relativi alla conversione realizzato a partire dai contenuti disponibili online. Questa decisione di lavorare su internet, in buona sostanza, di guardare a internet come a un deposito di contenuti ha necessariamente delle conseguenze. Tutti quanti noi conosciamo le potenzialità della rete che ovviamente sono in primo luogo quelle di rendere immediatamente fruibile ad un target che si vuole potenzialmente sterminato di persone un certo preciso contenuto. Tutte e tutti noi, però, siamo dall'altra parte necessariamente consapevoli della logica degli algoritmi. Quindi sappiamo benissimo che non necessariamente il fatto che qualcosa sia online significa che potremmo fruirne con semplicità, immediatezza e quasi casualmente per il semplice fatto che qualcuno l'abbia messo lì. E quindi questo, questo delle sfere chiuse è necessariamente un oggettivo ostacolo, un piccolo limite. Però è in dubbio il fatto che quando un contenuto si trova online potenzialmente noi possiamo vederlo e soprattutto lato autore nel momento in cui l'autore mette un contenuto online la sua volontà è la volontà di interloquire con un numero di persone il più ampio e variegato possibile. Ed è per questo che le autobiografie online ci interessano. Ci interessano perché si rivolgono a un pubblico molto ampio, si propongono come racconti esemplari, lo vedete nella slide, e vogliono essere una testimonianza. Testimonianza che, l'abbiamo già detto, è centrale nell'idea della condivisione che è propria da una parte di internet ma dall'altra parte del cattolicesimo. Dall'altra parte le autobiografie spirituali online sono funzionali anche e moltissimo alla Chiesa come istituzione. La Chiesa come istituzione e lo vedremo nei dettagli tra un secondo, vive un desiderio necessario e insuperabile di rinnovamento. Quindi ha bisogno di ampliare il suo target e quindi diciamo che l'utilizzo dei mezzi che la rete offre per questa finalità è indispensabile alla Chiesa come istituzione che infatti sceglie di allargare complice anche la recente necessità di allargare o di utilizzare questo media come appunto oggetto strumento dell'apostolato questa questa necessità può essere un po' riassunta da quello che potrebbe essere il nostro slogan delle autobiografie spirituali online che è sharing is caring quindi io condivido online e condividendo online sono funzionale alla Chiesa come istituzione sono funzionale a me stesso perché in qualche modo vado nella direzione di restituire una grazia che ho ricevuto e sono funzionale agli altri nel senso che ponendomi come un esempio secondo varie modalità come vedremo ponendomi come un esempio faccio in modo che un pubblico il più ampio possibile possa condividere in qualche modo quello che è stato il mio percorso farlo suo rielaborarlo ed eventualmente seguire le mie tracce non seguire le mie tracce perché io voglio essere il maestro della vita spirituale di qualcuno ma seguire le mie tracce perché come la grazia ha toccato me e vedremo questa questo avvicinarsi della grazia avviene in maniera anche molto diversa tra loro allo stesso modo la grazia può toccare anche loro tramite la semplice lettura di quella che è stata la mia esperienza e di un'esperienza che io a quel punto metto loro a disposizione abbiamo detto che internet è un media fruibile e accessibile da e per tutti e quindi questo fa sì che possa ospitare e accogliere tra l'altro vari tipi di racconti autobiografici regalando loro quella che abbiamo detto è una possibile visibilità per quanto riguarda nello specifico le autobiografie ma in parte anche le biografie che oggi non ci sarà tempo di affrontare ma che sono comunque numerosissime in rete anche in questo caso biografie spirituali l'estrema accessibilità di internet rende la rete il luogo ideale per l'apostolato nel senso che questo apostolato modellandosi in una chiave 2.0 porta alla nascita di nuovi personaggi che sono quelli che possiamo definire citando Papa Francesco gli influencer cattolici Papa Francesco a Panama durante la giornata mondiale della gioventù ha parlato appunto di influencer cattolici e ha detto che un influencer cattolico è cito e ce l'avete nella slide è uno o uno o una scusate che stando online dice sì a Dio e alle sue promesse ora quali sono le modalità per dire sì a Dio e alle sue promesse stando online questo è un po' il centro di tutta la riflessione che vi propongo oggi per cui faccio prima di cercare di trovare una risposta con il corpus dei casi prima di cercare di trovare una risposta a questa domanda faccio un momentino una prendo prendo un attimo una strada parallela e torno un attimo sull'idea di influencer noi sappiamo che parlando di influencer in ogni campo quindi dal fashion influencer all'influencer cattolico appunto parliamo secondo la definizione treccani che vedete qui di un personaggio popolare in rete che ha la capacità di influenzare i comportamenti e le scelte di un determinato gruppo di utenti e in particolare di potenziali consumatori l'influencer viene utilizzato nell'ambito delle strategie di comunicazione e di marketing ecco quindi che l'idea della storia di conversione quindi del racconto della propria conversione tramite lo strumento dell'autobiografia spirituale postata online può essere letta facilmente appunto come la volontà di proporsi come un influencer influenzando oppure possiamo dire guidando per evitare un gioco di parole i comportamenti e le scelte di altri potenziali fedeli e una strategia di questo genere rientra necessariamente nel novero delle tecniche di comunicazione e di marketing anche della chiesa intesa come istituzione la chiesa come istituzione l'abbiamo già detto prima ma adesso la ripetiamo perché è un po' quello che mi preme cercare di più che dimostrarvi di proporvi con l'intervento di oggi insomma nella speranza che questo sia utile anche per un dibattito la chiesa come istituzione va nella direzione di uno svecchiamento uno svecchiamento che funziona in termini anche comunicativi se questo è vero fin da concilio Vaticano II oggi ce lo testimoniano con estrema potenza comunicativa una serie di iniziative che arrivano dai contesti più vari vi faccio alcuni esempi il primo è un esempio classico Papa Francesco l'uomo meglio vestito dell'anno nel 2013 secondo Forbes ora è stata una scelta sicuramente dettata da una serie di fattori è stata una scelta molto pop per questo Papa che si è trovato in una lista che di solito è composta per il 99,9% da Belloni dei film americani un altro esempio la figura di Don Alberto Ravagnini Don Alberto Ravagnini 134.000 follower su Instagram 143.000 follower su YouTube e peraltro per vostra informazione ha appena pubblicato una sorta di autobiografia questa volta cartacea con Rizzoli ed è arcinoto sui social network per il suo cattolicesimo proposto appunto online un cattolicesimo proposto online che peraltro è esploso in due occasioni la prima è stata l'occasione appunto della pandemia quindi chiese chiuse e necessità di catechesi che entrasse nelle case e l'altro un pochino meno meno nobile diciamo il suo featuring con con Fedez via social network in realtà però questa idea della della necessità della chiesa di sbecchiarsi seguendo nuove strade comunicative è qualcosa che e qui mi permetto una parentesi che insomma forse c'entra meno con quello che stiamo dicendo ma che è esemplificativa è è qualcosa che il mondo della moda vive con violenza da svariate decine di anni quindi noi ultimamente stiamo assistendo a un rapporto sempre più pubblicizzato e quindi social e quindi diffuso e quindi in termini di marketing decisamente vincente tra moda e religione ci sono alcuni esempi classici di stilisti addicted diciamo all'iconografia cattolica dalle sorelle Fontana Dolce Gabbana Fausto Puglisi ultimamente per esempio c'è questa questo brand di luxury streetwear che si chiama Fear of God dell'americano Jerry Lorenzo che ha fatto suo che ha fatto proprio del suo essere un fervente cattolico una cifra creativa creando un brand già icona nel mondo dello streetwear questo se voi pensate ancora al Met Gala del 2018 dedicato proprio al tema di moda e cattolicesimo se pensate ai vari blog qui ne vedete uno The Catholic Chic vari blog dove si fonde la volontà di vivere una vita che sia cattolicamente indiscutibilmente diciamo buona e contemporaneamente unire a questa a questa idea di partenza anche un'attenzione alla moda che evidentemente deve essere una moda che deve rispettare certi paletti quindi tutto questo per dirvi stiamo assistendo a un periodo a un evoluzione a un cambiamento di paradigma nel quale la presenza di autobiografie online che funzionano appunto tramite questi personaggi degli influencer cattolici è funzionale a tante realtà a tanti attori e quindi diciamo che vi propongo di leggere queste questi racconti autobiografici di conversione che ci apprestiamo a vedere insieme come racconti autobiografici che appunto in qualche modo vanno a soddisfare gli interessi di vari vari attori sulla scena comunicativa legata al racconto della fede prima di fare tutto questo appunto in ottica di grandi cambiamenti che stanno interessando il mondo della della chiesa come istituzione vi propongo di affidarci a Sant'Isidoro patrono di internet Sant'Isidoro patrono di internet sta per essere scalzato dal più recente e giovane Carlo Acutis già salutato da molti come il futuro patrono di internet ma allo stato attuale delle cose Sant'Isidoro è colui che ci guiderà nelle nostre riflessioni riflessioni che vi dicevo appunto partono da queste due domande quali sono le modalità utilizzate online per dire sì a Dio e alle sue promesse e la seconda domanda che vi pongo e mi pongo è quali sono le forme gli obiettivi e le modalità narrative delle autobiografie online che raccontano storie di conversioni iniziamo da una sorta di disamina di quello che su quello che possiamo trovare online quando cerchiamo storie di conversione allora abbiamo in primo luogo diverse forme di condivisione queste diverse forme di condivisione si differenziano a seconda del luogo sostanzialmente del luogo dove è proposto questo racconto e delle modalità secondo le quali questo racconto viene proposto esistono quindi in primo luogo i più facili da trovare anche a un internauta insomma semplicemente curioso sono i racconti personali su pagine pubbliche per esempio i gruppi religiosi le associazioni religiose dedicano spesso una parte dei loro blog dei loro siti a racconti di conversioni o comunque testimonianze di avvicinamento a dio scritte al signore insomma la religione in generale scritte da loro adepti che decidono di condividerle dall'altra parte abbiamo invece sempre della stessa della stessa tipologia di racconti personali i racconti personali che invece trovano spazio sulle pagine private quindi io vedo subisco l'illuminazione tipo al modo di paolo sulla via di damasco e anziché andare a scriverlo nel gruppo della mia parrocchia decido di condividerlo sulla mia pagina facebook oppure decido di crearmi uno spazio dove andare a a raccontare la mia conversione e questo è la terza la terza tipologia di condivisione di racconto di fede quindi le pagine web costruite ad hoc per raccontare storie di conversione all'interno di queste pagine web vi propongo una ulteriore suddivisione in due quindi da una parte abbiamo le pagine diario quindi i racconti che sono sostanzialmente racconti autobiografici appuntate sulla falsariga dei blog di ogni tipo coloro e qualità che tutti quanti conosciamo creati però apposta per raccontare proprio il cammino di fede quindi dalla dalla genesi all'apocalisse si racconta il il cammino spirituale di questi blogger che sono appunto blogger orientati alla spiritualità dall'altra parte e secondo me ancora più interessanti ma ci arriveremo ci sono le pagine invece artistiche quindi pagine di nuovo create ad hoc per raccontare questo cammino verso la spiritualità ma create in questo modo per riuscire a raccontare la propria esperienza in un linguaggio che non sia più il linguaggio scritto in prosa ma che sia invece un linguaggio artistico questo lo vedremo quando arriveremo a parlarne parlando dei rapper cattolici rapper cattolici che non ve lo aspettate ma sono in realtà un grande mondo sommerso ma fino a un certo punto perché da da qualche disco a questa parte ne fa parte addirittura Kanye West e quindi insomma diventeranno mainstream nel giro di poco se queste sono le forme di condivisione vediamo invece quali sono gli obiettivi della condivisione che in qualche modo però abbiamo già anticipato gli obiettivi della condivisione lo scopo comune a tutti è quello della condivisione appunto quindi internet visto come media dello sharing ma anche dell'apostolato è evidente che per andare online a fare apostolato la condivisione su pagine amiche quindi gruppi di preghiera associazioni eccetera è meno problematica della condivisione pubblica terzo punto che andremo a considerare guardando il nostro corpus di casi sono le modalità del racconto quindi da una parte vedremo qualche racconto scritto dall'altra parte vedremo invece qualche racconto in musica d'altra parte Sant'Agostino diceva che cantare e pregare due volte e quindi sulla scia di Sant'Agostino che ci accompagna vedremo anche la musica questo forma queste forme del racconto io vi propongo di analizzarle attraverso quelli che sono i punti principali i punti insomma dello schema narrativo canonico quindi vedremo insieme che c'è una prima fase che è la fase della manipolazione fase nella quale arriva una consapevolezza di una situazione iniziale che si vuole modificare vedremo che questa situazione iniziale sostanzialmente apparirà a due ambiti da una parte la normalità quindi una normalità una vita quotidiana appunto banalmente quotidiana che verrà poi riletta col senno di poi al momento della conversione come una vita apatica dall'altra parte ma spesso diciamo quasi più comune in termini numerici almeno nei casi che io ho analizzato una situazione di disagio quindi un disagio profondissimo che porta alla rabbia e che porta alla volontà di intervenire su questo disagio di intervenire su questa rabbia il secondo punto è la competenza quindi la molla della conversione che cosa succede per cui qualcuno che il giorno prima era un mangia preti poi diventa invece un grande fan della cristianità sostanzialmente succedono due cose nei racconti che vedremo da una parte abbiamo un trauma una morte molto vicina una violenza subita una difficoltà comunque che viene a toccare da vicino l'autore della narrazione dall'altra parte l'esempio quindi io che facevo una vita dissoluta a un certo punto ho guardato il mio vicino che invece faceva già una vita perfettamente santa diciamo tra molte virgolette e seguendo il suo esempio sono riuscito a migliorarmi anch'io arriviamo alla fase della performanza che è la conversione vera e propria e concludiamo con la sanzione sanzione che potremmo immaginare come un piacere personale nella constatazione del proprio status cosa dalla quale però ci guardiamo bene perché questo violerebbe il topo dell'autodisprezzo e quindi sanzione finale che noi leggiamo come la volontà di condivisione come un desiderio di proporre il proprio caso come esemplare esemplare nel senso di che dà l'esempio vi propongo una serie di appunto esempi allora sul sito dei Papa Boys troviamo la storia di Alessandro si tratta di un racconto scritto di una testimonianza quindi scritta in prima persona da questo appunto Alessandro Alessandro lavora in un carcere lavora in un carcere ha alle spalle una vita non felicissima la sua mamma è morta lui è stato segnato da una vita trascorsa sostanzialmente la sua mamma molto molto cattolica diciamo mi sono dimenticata la sua mamma molto cattolica è morta dando alla luce la sua sorellina tra l'altro è lui che ha vissuto questa dimensione spirituale come un'imposizione della mamma quando era in vita nel momento in cui la sua mamma non c'è più evidentemente volta le spalle a tutta a tutta questa spiritualità che dice lui la sua mamma non ha contribuito a salvarla e che quindi evidentemente sono tutte fregnacce e va a lavorare in un carcere lascia la sua città va a lavorare in un carcere e in carcere peraltro nella riviera romagnola dove scopre i piaceri della discoteca sesso droga e rock and roll e si stupisce di non averli trovati prima ma quelli diventano un po' la sua ragione di vita interpreta tutti quelli che appunto sono i topoi del secondino cattivo per cui lui appunto non non lesina nei vizi e poi si comporta malissimo con i carcerati che infatti in qualche modo lo temono con i colleghi che in qualche modo lo temono eccetera appunto fino a quando che cosa succede? si parte dal disagio allora questo racconto è un racconto che inizia dal disagio e ci racconta che lui quando era giovane aveva deciso di bestemmiare almeno 100 volte al giorno ma non erano 100 volte che faceva così lui le contava ste 100 volte e se alla sera non aveva raggiunto quel numero lo leggete nella slide lo facevo di seguito perché così potevo addormentarmi tranquillo quindi proprio l'esempio della dissolutezza appunto vi dicevo va conosce conosce sesso droga e discoteca no scusate la mamma non muore di parto ma si uccide per una forte depressione a causa della nascita della sua sorellina e lui va a lavorare in carcere a Piacenza a un certo punto c'è la situazione del vero disagio percepito a un certo punto è notte lui si trova nel primo blocco del carcere a freddo ha un M12 in mano quindi una mitraglietta in mano e pensa alla sua mamma e pensa al suicidio sostanzialmente pensa al suicidio che poi non compie e continua la sua vita normale in carcere continua la sua vita normale che diventa sempre più difficile ha bisogno di volume la mattina per essere tranquillo la pressione è sempre alta eccetera fino a cosa succede succede che il comandante è in giro per il carcere e lui non può correre il rischio di addormentarsi perché ci ha raccontato nei passaggi precedenti questo comandante l'ha preso un po' di punta a un tratto si ricorda di questi colleghi che parlano sempre della Bibbia e decide per una volta di prendere un pochino in mano la situazione e di leggersi un Vangelo una Bibbia di modo da poterne dire quattro poi a questi saccenti incomincia a leggere le genealogie e dice che pizza insomma comprensibile va avanti e arriva a leggere di Gesù ora nel momento in cui lui legge di Gesù ci racconta a un certo punto vive una sensazione di terrore sono io quello che sta prendendo a calci Gesù e arriva la consapevolezza io merito una brutta fine ma poi subito dopo inatteso come questa lettura arriva la pace e per me che l'ha fatto cominciò a piangere a dirotto prego lo ringrazio il giorno dopo abbraccio i colleghi fratelli distribuisco Vangeli e i detenuti è arrivata la conversione è arrivato questo cambio di abitudini che lo porterà a modificare tutta la sua vita e questa modifica della sua vita passa in primo luogo attraverso la condivisione che lui infatti esplicita alla fine del suo ricordo ecco perché caro lettore posso dire che lo spirito santo mi ha parlato e Gesù mi ha toccato guarendomi dalla lebra del peccato quindi vedete si tratta di quattro passaggi che sono dei passaggi ben chiari c'è un disegno iniziale la morte della madre la sensazione di solitudine questo mondo di eccessi c'è un esempio che è un esempio casuale io per caso ho trovato questa bibbia dovevo rimanere sveglio per caso ho trovato questa bibbia e per caso ho deciso di leggerla poi c'è la consapevolezza la conversione che porta immediatamente a un cambio di abitudini e quindi c'è la condivisione la volontà di far sì che questo esempio di lui che è più dissoluto di lui non ce ne si poteva essere bestegnava cento volte al giorno e se non c'era arrivato si metteva a farlo di seguito questa nuova consapevolezza è qualcosa che deve essere urgentemente condivisa con un numero di persone più ampio possibile vado velocemente per non rubare tanto tempo un altro esempio sempre di racconto di conversione fatto online è invece un esempio che parte da un punto di partenza diverso quindi da un'apatia da una mediocrità arriva poi la fase del dolore che è un dolore di nuovo violentamente esperito nell'ambito familiare si arriva quindi alla conversione che mi interessava portarvi qui perché è una conversione che è ben lungi dall'essere la lettura di una bibbia nella stanzetta di un carcere è addirittura una visione ultraterrena con petali che si staccano dal sole insomma una roba anche piuttosto elaborata e quindi però la medesima volontà di condivisione che guidava il nostro secondino di prima questo racconto di conversione ci interessa anche perché parte da una premessa premessa che ha tutte le caratteristiche linguistiche della captazio benevolenza in senso classico quanto sto per raccontare verrà letto se letto quindi con incredulità anch'io avrei delle riserve se mi sono decisa a raccontare è perché ritengo che sia una testimonianza di fede dovuta ma so che corro il rischio di passare per visionaria non lo so per cui vi dico che io non bevo non faccio uso di droghe psicofarmaci o cose simili e non soffro di allucinazioni quindi adesso vi sto per raccontare una cosa della quale non sono sicura se la leggerete seppure la doveste leggere probabilmente non ci crederete però la volontà del signore è talmente più forte di me che io non posso fare a meno di raccontarvela e quindi infatti ve la racconto e lei racconta partendo ma a questo punto poi lo svolgimento appunto lo dicevo è molto simile al nostro Alessandro di prima parte da una situazione iniziale che nel caso specifico è una situazione di apatia prima ritenevo di essere una buona cristiana perché era una persona di sani principi in buona sostanza poi a un certo punto arriva il dolore quindi la nipotina si ammala e muore e a pochi giorni di distanza muore anche la figlia quindi la mamma di questa nipotina quindi insomma una cosa effettivamente molto pesante e allora lei per una serie di motivi anche qui apparentemente casuali decide di andare a Medjugorje ma non perché lei volesse andare a Medjugorje ma perché una persona le dice nel suo racconto alla quale non potevo dire di no mi convince ad andare a Medjugorje con lei va a Medjugorje insomma tutto il posto fa tutte le cose che normalmente si fanno quando si fanno questo tipo di pellegrinaggi quindi confessione sacramento dell'eucarestia eccetera e a un certo punto arriva la visione arriva la visione e questa visione lei la racconta in modo in modo molto molto diciamo classico secondo gli standard classici secondo i quali vengono riportati su carta degli delle appunto delle visioni che sarebbe difficile condividere in modo diverso e che dei quali noi percepiamo tutta la difficoltà della condivisione e soprattutto della credibilità perché noi in qualche modo qua siamo siamo costretti a sospendere la nostra incredulità leggendo questa descrizione quindi in pratica lei racconta di questo poi la visione in sé per sé ci interessa evidentemente fino a un certo punto ci racconta di questo sole ricoperto da un disco color sangue intorno al sole questi cerchi come fossero dei dei petali questi petali che formano dei punti di vario di vario colore e che poi si moltiplicano dopodiché a un certo punto da un certo punto di questo disco partono due fasce di luci simili a quelle del Gesù della misericordia e insomma in qualche modo questa signora evidentemente si si converte si converte e anche lei come il nostro secondino di prima la prima il primo urgente compito che avverte in presa consapevolezza della sua conversione è la condivisione condivisione che mi interessava farvi vedere questo esempio perché nel caso specifico avviene online ma non solo quindi lei racconta online ma soprattutto sente il bisogno di saperne di più quindi lei cerca una condivisione che sia anche una condivisione in qualche modo analogica e lei si impegna ad approfondire la conoscenza di quel mondo a noi invisibile che rimarrà tale lei scrive e io cito fino alla fine dei nostri giorni quando il mistero della fede ci verrà svelato esistono molti altri racconti che speravo di raccontarvi questo per esempio è la storia della conversione di un professore di scuola media che racconta di essersi convertito durante la pandemia perché nella chat di classe della sua scuola arrivavano una serie di inviti alla preghiera questi ovviamente ben lungi dal convincerlo al convertirsi anzi tiravano fuori il peggio del suo ateismo però comunque in qualche modo lo facevano riflettere lo facevano riflettere lo facevano riflettere fino a quando a un certo punto non ha avuto consapevolezza del fatto che la crisi di governo dell'agosto 2019 alla fine della quale l'ex ministro Salvini aveva chiesto pieni poteri senza però averli evidentemente ottenuti ma provocando la crisi del governo che aveva portato alla nuova maggioranza era qualcosa che ai tempi lui aveva vissuto come un passaggio incredibile ma che in realtà era la prova inconfutabile dell'esistenza di Dio perché questo fatto che la nuova maggioranza fosse andata al governo e che quindi per fronteggiare la situazione pandemica che evidentemente nessuno si poteva aspettare se non il creatore ci fosse una maggioranza di persone tutto sommato soft era la prova inconfutabile dell'esistenza di Dio oppure c'era ancora una testimonianza di un attore che recitando nel film The Passion di Mel Gibson appunto si converte perché vede l'attore che interpreta Gesù Cristo e in qualche modo vede nei suoi occhi una passione per questo personaggio che è una passione non soltanto per contratto bensì una passione che evidentemente ha qualcosa di naturale e anche lui ci ha scritto poi anche questo attore che si chiama Pietro Sarubbi ci ha scritto poi un libro ma soprattutto ha raccontato di questa sua esperienza online non ho tempo per farlo che voglio velocemente soltanto portarvi su quello che era la seconda tipologia dei racconti di conversione disponibili online quindi evidentemente partiamo dall'idea che le forme di condivisione in rete non si limitano ovviamente ai testi scritti dopo di che mettiamoci un'altra premessa dicendoci che internet fonte confindustria è il mezzo principale utilizzato in Italia per l'ascolto della musica quindi il 35,9% dei nostri connazionali ascoltano musica online nonché sempre internet è il secondo mezzo dopo la radio per la scoperta di nuovi brani musicali secondo punto da cui partiamo è che la musica il canto e la fede sono fuse nella cultura cattolica fin dalla Bibbia qua avete una serie di citazioni bibliche e però come terza necessaria premessa consideriamo il fatto che l'autobiografia come la musica ha un intento pedagogico se l'intento pedagogico dell'autobiografia abbiamo già detto qui invece sull'intento pedagogico della musica ci basti sapere che la musica è uno strumento significativo per la formazione perché le sue numerose funzioni quindi cognitive identitaria inclusiva sociale facilitano l'apprendimento il linguaggio musicale è un linguaggio facilitatore per il suo carattere universale con la capacità di penetrare sensi e significati operando una sublimazione passando dalle orecchie al cuore saltando parzialmente o totalmente il filtro di razionalità oltre a questo poi la musica ci interessa perché è una narrazione rappresentata nel suo evolversi quindi come un testo scritto dunque la musica può essere benissimo uno strumento dell'apostolato l'abbiamo detto i casi non mancano se voi pensate alla musica liturgica ma dall'altra parte la musica può essere un strumento un mezzo per l'autobiografia artistica e spirituale oltre a questo abbiamo come terza premessa il fatto che la musica online sia facilmente condivisibile e che quindi debba essere immaginata secondo un registro che è un registro 2.0 vi dicevo prima che questa idea della musica di guardare al mondo del cattolicesimo è qualcosa che appunto sta diventando abbastanza mainstream Kanye West ha pubblicato nell'ottobre del 2019 un disco che si intitola Jesus is King che per inciso segue di 15 anni una sua opera precedente che è del 2004 e che è Jesus Walks ma lo stesso Justin Bieber da quando ha scoperto l'altissimo sembra non riuscire più a farne a meno infatti posta in continuazione le sue le sue riflessioni sul questo per dire che insomma lo strumento della condivisione online nel mondo della musica funziona molto bene in realtà noi adesso lasceremmo un attimo da parte Kanye West e Justin Bieber per andare invece su qualcosa di molto più nostrano qualcosa di molto più nostrano con il quale mi avvio alle conclusioni di questo incontro nostro di oggi è la figura di questo DJ che si chiama Luca Maffi anche lui viene da una vita abbastanza sfortunata insomma i suoi genitori si separano lui viene cresciuto dai nonni e a un certo punto subisce una violenza peraltro da parte di un di un laico vicino alla chiesa questo lo lo allontana dal mondo della chiesa e lui inizia a fare il DJ inizia a fare il DJ quando sale in console si sente un dio in discoteca fa entrare tutti i suoi amici sente proprio l'atmosfera della della pista che gli dà la soddisfazione inizia evidentemente a bere fumare e e e altro fino a quando a un certo punto non viene folgorato non viene folgorato e questa folgorazione avviene in una chiesa nella quale lui osserva il la la particola quindi osserva il il pane consacrato e osservando l'ostia consacrata si converte si converte e decide sostanzialmente di mettere al servizio dell'apostolato e al servizio del del mondo cattolico le sue doti di DJ e lo fa attraverso una serie di canzoni nonché attraverso la creazione di questa pagina che è una pagina artistica nella quale lui unisce la sua la sua insomma competenza di DJ a quelle che sono le altre competenze lo sapete le altre competenze della moda street quindi da una parte abbiamo il DJ singh lui unisce poi anche tutto writing il dancing eccetera e lo fa all'interno di questa pagina ora è molto interessante questa canzone perché questa canzone è proprio il suo racconto il racconto della sua conversione vi faccio sentire soltanto all'inizio neanche 30 secondi lo sentite? ti racconto il mio corpo per un attimo attremmato il cuore batteva impazzito non avevo le forze di alzare un dito la mia vita mi passò davanti tutti i problemi non erano più giganti in quel momento in me si è entrato i miei occhi fissi su quel pane consacrato sentiti vieni fuori adesso io ti ho svidato ti ho sentito addosso la tua mano mi è allungato nel mio cuore le parole vieni figlio ti ho salvato capite questo è grazie del feedback e poi continua invito tutti quanti voi evidentemente ad andarvi a cercare questo brano che si intitola Salvo per miracolo perché questo brano che si intitola Salvo per miracolo come un altro brano di Shouk che è un altro rapper cattolico italiano che è noto ai più per un featuring mai insomma confermato dal direttore interessato con Emi Schilla quindi con un rapper di altro spessore almeno in termini di following questi due personaggi che sono soltanto due tra i molti personaggi di rapper legati al mondo del cattolicesimo ci propongono un altro esempio di autobiografia che è un'autobiografia portata avanti in musica che sostanzialmente soddisfa tutti gli step narrativi che abbiamo visto essere indispensabili in questa tipologia di racconti di conversione online per cui si parte da questa situazione che appunto è una situazione nel caso di questi rapper come di tutti i rapper del mondo che è una situazione di disagio si arriva a un esempio a un cambiamento si passa alla conversione e poi arriva la volontà di condivisione che però è una volontà di condivisione che in questo caso corre sulle righe di un pentagramma ora tutto questo per dirvi e su questo concludo che se in generale internet si è proposto come il nuovo spazio per parlare di sé anche coloro che vogliono parlare del proprio percorso di conversione hanno intercettato e utilizzano questo medium tra coloro che utilizzano questo medium anche il mondo cattolico ne sta pian piano comprendendo il potere e questo ha dato origine a un vero e proprio trend trend che si fa uomo possiamo dire nella figura dell'influencer cattolico influencer cattolico che è figlio della necessità di svecchiamento della chiesa come istituzione e che ha avuto un importante acceleratore nel periodo pandemico che abbiamo appena vissuto quello che abbiamo visto oggi insieme è che tutti i racconti di conversione proposti online hanno tratti analoghi quindi sostanzialmente il ricordo di questo prima incompleto o sbagliato è la vita la descrizione di questo presente che al contrario si vuole come completamente positivo evidentemente abbiamo detto lo ripetiamo qua in conclusione non tutti i racconti di conversione hanno lo stesso ridievo in termini di following ma i racconti di conversione online più interessanti sono quelli che in qualche modo offrono accanto al resoconto dei fatti vissuti una rappresentazione artistica di questo percorso e anche questo non ci deve stupire più di tanto perché è un'esortazione che Benedetto decimosesto papà Benedetto decimosesto aveva fatto quindi auspicando che fossero le minoranze creative a determinare il futuro concludo quindi davvero con una piccola provocazione se noi immaginassimo noi abbiamo parlato di autobiografie online e quindi possiamo immaginarci una sorta di dissing tra Luca Maffi DJ quindi questo ragazzo questo DJ del rap Gesù Cristico e Sant'Agostino quindi sostanzialmente se noi prendiamo le parole di Sant'Agostino nelle confessioni e le parole di Luca Maffi DJ nella sua dichiarazione di fede in Salsa Rep vediamo che sostanzialmente entrambi dicono cose abbastanza analoghe quindi questi racconti di conversione in realtà sono racconti di conversione che hanno moltissimi tratti in comune che sostanzialmente rappresentano una narrazione che è una narrazione che si vuole sotto molti punti di vista analoga ma che semplicemente si declina sul mezzo attraverso il quale questa narrazione viene proposta ma sostanzialmente le autobiografie spirituali in formato www del quale abbiamo parlato oggi qui non hanno molto da invidiare alle autobiografie spirituali classiche perché sostanzialmente hanno la particolarità di adattarsi a quello che è evidentemente il tempo nel quale ci troviamo tempo nel quale ci troviamo che a mio parere sta portando a una nuova coolness del cattolicesimo come dimostra questa questo questo siparietto avvenuto non da molto su Instagram quando per commentare un articolo che invitava rap italiano a dire no alle bestemmie usate in maniera sconsiderata Emi Schilla ha risposto con una bestemmia giusto appunto ed è stato subito subito bloccato insomma nella sua corsa al successo è stato bloccato da questo giovane trapper che è molto più hype di lui che si chiama da Supreme che gli ha risposto semplicemente cringe quindi imbarazzante voler volersi ostinare a bestemmiare voler usare il mezzo internet per le bestemmie è una cosa che si può definire soltanto cringe perché è ormai questo mezzo è un mezzo che piuttosto sembra interessante per essere utilizzato invece in direzione di un racconto spirituale che è un racconto spirituale che si propone come esempio e che evidentemente sta iniziando a dare i suoi frutti e io su questo vi ringrazio molto e chiedo scusa a Vittoria se sono andata un po' lunga rispetto a quello che erano i miei tempi e vi ringrazio tanto dell'attenzione grazie Leonora grazie per questo tuo bell'intervento che ci dà anche un'applicazione più pratica forse più vicina no? alla sensibilità a un certo tipo di sensibilità rispetto a tante cose teoriche che sono state fatte finora con il tuo intervento ci dai proprio un saggio di applicazione pratica di questi principi e rispetto diciamo a fenomeni che non sono poi forse così studiati ancora come questi testi digitali di cui tu ti sei occupata passo passo invece a presentarvi la nostra seconda relegatrice di oggi che è Victoria Dos Santos che è una dottoranda in semiotica e media presso l'università di Torino e la sua area di specializzazione riguarda le nuove religioni che emergono nello spazio digitale si occupa anche della semiotica della cultura e più in generale di studi dei nuovi mezzi digitali si occupa in particolare di religioni digitali estetica digitale giornalismo contemporaneo ruolo della natura nell'era digitale ha una laurea in scienze della comunicazione conseguita a Caracas in Venezuela e dopo la laurea anche lei ha lavorato per alcuni anni come giornalista presso differenti radio e tv in Venezuela e ha anche conseguito un master in giornalismo presso sia l'università di Barcellona che la Columbia University di New York oggi ci parla di un argomento che penso sia abbastanza vicino a quello che lei studia per la sua tesi di dottorato ma ovviamente le abbiamo chiesto appunto di dirci qualcosa riguardo appunto a testi che hanno che possono avere a che fare con l'aspetto biografico che invece non è proprio appunto il focus della sua tesi ma insomma per farla breve ci presenterà un'intervenza intitolato Cyber Diaries Personal Narratives of Self-Transformation in Digital-Based Spiritualities quindi io ringrazio Victoria per essere qua e le passo la parola grazie mille e adesso condivido la presentazione spero che questa volta non ok prima di iniziare un secondo sistematizzo ok mi piacerebbe anche ringraziare moltissimo Leonora perché lei ha chiuso da un modo perfetto anche per introdurre un po' il mio tema o la presentazione che vorrei condividere con voi prima al momento di parlare un po' di questi racconti cyborg facendo riferimento alla sua caratteristica ibrida giustamente l'importante è quello che magari non segue in teoria la struttura che siamo abituati a vedere nelle autobiografie spirituali classiche ma che fanno uso di queste tecnologie digitali altri mezzi molto più innovative per permettere agli utenti di esprimere non solo i desideri o le sue interesse in relazione a una strada religiosa o incentivi spirituali ma soprattutto di sviluppare una sorta di attività all'interno di per esempio videojoki comunità virtuali 3D eccetera dove l'aspetto spirituale in prima persona che funziona come un racconto e notevole e molto interessante adesso vorrei iniziare per non fare molto lungo e vorrei anche scusarmi perché magari farò degli errori in italiano fortissimi quindi chiedo qualsiasi cosa potete interrompermi io posso chiarire senza problemi quindi questa presentazione si focalizza nell'ambito delle intersezioni fra spiritualità e mezzi digitali o computazionali nello specifico si valuta come i soggetti raccontano i loro incontri ed esperienze spirituali non solo dalle piattaforme digitali ma anche attraverso e motivate con le piattaforme digitali e come queste permettono loro di sviluppare una connessione con quello che considerano sacro o con il luminoso il risultato è rappresentato da testi ibridi eliminare che si muovono fra categorie considerate opposte ma che intanto iniziano a generare una condizione cyborg che descrive la manifestazione espirituale contemporanea tuttavia tante di queste espressioni sono così collegate con il contesto online che alla fine l'utente abita questi spazi in modo intimo e creativo generando tanti tipi di testi ritualistici mistici anche meramente espressivi per estabilire un'equivalenza una sorta di percorso spirituale attraverso esperienze sviluppate nello spazio virtuale mi avvicino al termino dell'autobiografia spirituale che permette di comprendere questa interazione non come espressioni intermittenti ma come una costante in cui il credente genera una sorta di narrazione come elementi di fizione e generalmente destinata alla lettura parleremo di una autobiografia di natura translinguistica cioè fa uso di diversi linguaggi per comunicare la propria esperienza dove le motivazioni spirituali sono inseparabili a pratiche proprie del contesto online per esempio video gli occhi come ho detto all'inizio ma per denominare questi casi come appartenenti all'ambito autobiografico dobbiamo prima avvicinarsi al concetto quindi per esempio può essere definito come un meraviglioso esercizio di espogliarsi spiritualmente senza vergogna e senza pressioni in ciò che l'autore presenta con gli incontri e le esperienze che lo hanno influenziato di più l'autore di un'autobiografia si pone come compito quello di raccontare la propria storia si tratta per lui di riunire gli elementi dispersi della sua vita personale e raggrupparli in uno schema a differenza di altri tipi di letteratura dell'io come per esempio il diario intimo ma vedremo che i casi studi che presenterò qui hanno un po' anche di vedere tantissimo con diari intimi l'autobiografia rappresenta un racconto una narrazione e l'autore deve essere il narratore anche se in teoria deve avere un carattere retrospettivo l'autore fa costante allusione allo stato attuale della sua anima dei disinteressi eccetera e anche altri tipi di e fa anche molti salti temporali nel senso non è lineale l'elemento di fizione è molto ricorrente qui per arricchire il racconto o descrivere meglio l'esperienza interiorizzata nella bibliografia spirituale non si focalizza tanto sui fatti del passato ma soprattutto sulla elaborazione che l'escrittore fa di quei fatti nel presente della scrittura quindi la memoria qui non è un elemento passivo che solo registra i ricordi ma invece è un elemento attivo che rielavora i fatti come sicura Angelo Ureiro questo è molto interessante è anche molto importante per quello che vedremo dopo perché è quello non è una non è una registrazione non è portare adesso al presente nella scrittura tutto come è accaduto è più una rielaborazione in questi casi che è molto ibrido è molto particolare e magari non è che sembra assolutamente al 100% una autobiografia spirituale allo stilo classico ma vediamo come giustamente l'aspetto creativo facendo uso di questi elementi computazionali come l'avatar e genera una narrazione molto molto ricca e molto interessante lo vedremo ok nel corso di questa presentazione presenterò quattro casi che possiamo a vari livelli inquadrare nella sfera dell'autografia spirituale nella prima fare una breve introduzione a uno dei primi esponenti della ricerca ed esperienza mistico-religiosa della rete stessa Mark Pesch un personaggio divenuto molto popolare tra i circoli tecnomistici degli anni 90 durante l'inizio della cibercultura come membro e professionista del tecnopaganessimo tecnopaganessimo giustamente quello che studio per la mia tesi di laurea e lui è stato uno dei primi rappresentanti di questo fenomeno spirituale Pesch utilizzando gli strumenti digitali di quel tempo e le sue capacità di programmazione ha espresso il suo sviluppo spirituale come un individuo che scopre le potenzialità religiose del mezzo digitale come lui assicurava il computer sono specchi non c'è niente in essi che non abbiamo messo lì penso che il computer dice lui possano essere sacri come noi perché loro possono incarnare la nostra comunicazione con altri utenti e con l'entità o tante altre dignità dipende della religione che invochiamo in quello spazio nel secondo caso studio mi concentrerò su Minecraft un gioco di tipo aperto scusatemi dove molti giocatori esfruttano la capacità costruttiva illimitata dello stesso gioco alla fine di creare altari digitali celebrare rituali e anche fare una dedica alla divinità per alcune specificazioni nel gioco stesso qui mostrerò Cassi e alcune Cassi specificamente un progetto che si chiama Minecraft Theology sviluppato per Jeremy Smith dove lui fa una specie di blog dove parla di Gesù mentre gioca ma il racconto non ha niente di fare con quello che lui sta facendo in quel momento per quello che è anche curioso come formato il terzo caso al contrario sarà relativo a Second Life una piattaforma virtuale 3D dove l'utente sviluppa esperienze di carattere immersivo attraverso l'avatar per questo utilizzero la teoria semiotica di Giulia Gristeva così come la poetica di il premio Nobel messicano Octavio Pass la prima ci permetterà in prima instanza di intendere questi testi risultanti tenendo conto della sua condizione ibrida e invece un secondo ok inquadrati che sono ibridi non possono essere inquadrati in una struttura fissa non possono essere capiti come un gioco o come un testo assolutamente spirituale ma soprattutto possiamo attraverso Giulia Gristeva capire come queste manifestazioni sono parte di un linguaggio poetico e quello è il punto dove vorrei arrivare capire queste manifestazioni come un linguaggio poetico e come il linguaggio poetico attraverso la poetica di Pass come molto molto in relazione con il pensiero o il sentiero o la intenzione religiosa l'esperienza poetica infatti secondo Pass è analoga all'esperienza spirituale e ci permette di capire come attraverso degli elementi che compongono lo poetico si genera una dinamica che permette svelare un altro modo di sperimentare la propria religiosità o la propria spiritualità quindi l'attività poetica è rivoluzionaria per natura lui dice che come esercizio spirituale è un metodo di liberazione interiore revela questo mondo e crea un altro è quello che vedremo giustamente in questi casi e studi faccio un po' di contesto prima di entrare allo studio durante gli anni 90 la nascente civercultura e tutto il misterio che girava attorno alle reti digitale hanno creato una correlazione tra tecnologia e spiritualità promuovendo e sviluppando una varietà di discorsi religiosi ed esoterici e dando origine a una sorta di tecnomisticismo circostante basta guardare il lavoro di autori e tecnoentusiasti degli anni 90 inizio del 2000 come Eric Davis Kevin Kelly Brenda Brasher o Jennifer Kopp per i quali la dimensione spirituale del civerespazio era notevole e potente in questo senso sia che il mezzo computazionale sia diventato un evento spirituale per gli esseri umani o che il civerespazio abbia il potenziale per aprirci a nuovi modi di vivere il mondo quella componente magica e cosmologica che sembrava essere scomparsa durante la modernità è stata riproposta all'interno di una delle più grandi innovazioni tecnologiche dell'umanità la macchina digitale a questo punto il mezzo digitale rappresenta non solo uno spazio di incontro tra gli utenti ma anche uno spazio di comunione con ciò che consideriamo sacro come il luminoso e con quelle altre cose che vorrebbero accomporre l'immaginario magico di tante culture infatti Margaret Wertheim l'aveva già sottolineato assicurando che l'internet sarebbe venuto a riconvalidare lo spazio dell'anima così come lo spazio fisico il civerespazio infatti condivide con la religione quella caratteristica di mediatori immateriale collegando il mondo visibile delle interazioni umane con il mondo invisibile degli spiriti degli idee e del trascendente sarebbe sufficiente vedere l'interpretazione spirituale di molti utenti come vedremo più avanti quando sviluppano certe pratiche di natura religiosa nell'ambiente dei videoiochi visitano templi digitali da comunità 3D o persino svolgono ceremonie ancestrali attraverso dispositivi elettronici e tecnologie di realtà virtuale o aumentata queste condizioni insieme alla caratteristica del media digitale come sono la connettività e l'ubiquità hanno contribuito a sperimentare l'internet come una rete spirituale consentendo la manifestazione di tutti i tipi di pratiche religiose questo può essere riconosciuto ad esempio nelle cyber chiese cattoliche o nelle ceremonie virtuali buddhistiche si diffondono in numero nel web tutto questo processo tra tecnologia e spiritualità genera altri paradigmi in cui la tecnologia delle comunicazioni influenzano il modo in cui le persone praticano o percepiscono la religiosità pertanto l'internet viene descritto come un nuovo tempio elettronico o anche uno spazio sacramentale tuttavia questa situazione ha generato molti dubbi alcune delle domande più comuni rotano attorno alla validità del contesto online per generare esperienze religiose autentiche e trasformative ma certo che tutti questi sono tanti dubbi rispetto a le validità di alcuni di queste performance nonostante è interessante vedere come qua possiamo trovare questi cyborg e chiamo cyborg per questo incontro fra quello che possiamo chiamare come più culturale più vecchio più vicino magari all'antropologico spirituale degli esseri umani con queste tecnologie e come invece lo spirituale non si ferma nel senso non è perché siamo qui in un ambiente estrematamente tecnologico di algoritmi altri tipi di esprezioni l'aspetto spirituale è spento o debole o molto pieno di magari non so della cultura popolare che infatti è così ma che questo non gli resta la validità perché la intenzione e l'esperienza è lì volevo solo fare questo questo parentesi prima di continuare e anche fare una presentazione molto piccola di questo questo materiale che anche per la per questa discussione dell'autobiografia spirituale sarebbe interessante di 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 leggere e fare un po' di ricerca perché qui Eric Davis giustamente esamina come la parte dallo mitico con la scienza lo trascendente con lo tecnologico si incontrano e creano questi discorsi molto interessanti e in tutte queste pratiche un altro inciso prima di continuare vedremo anche che c'è una sorta di animismo digitale intendendo come animismo una una forma di vedere altre entità come non come oggetti morti ma che hanno una sorta di anima una sorta di spirito una sorta di sostanza e questo capita molto qui questi racconti queste esperienze dove fai un'interazione non solo con altri utenti ma anche con altri avatar e con altre diciamo imputate che non sono semplicemente lì nella interfaccia e questi arricchiscono e formano parte dell'esperienza spirituale di queste persone e quindi anche se le esperienze sono dalla religione cattolica l'animismo il componente animista è molto molto presente in questo tipo di manifestazioni quindi secondo perché ho un problemino qui ok potete vedere la presentazione Jenny sì sì ah ok scusa solo che ho avuto il problema quindi è importante tenere in conto che questa concezione animista e anche ci fa capire come non siamo lì soltanto per utilizzare il mezzo digitale come un strumento come un oggetto ma che infatti c'è un'interazione molto intima presente qui non con altri esseri umani ma con queste entità neanche organiche e questo anche risponde alla concezione del postumanesimo dove possiamo vedere come ci si formano una sorta di ontologia orizzontale con altri esseri con creature no macchine e in questo caso con le macchine e dove questi dispositivi tecnologici aiutano formano parte delle esperienze spirituali stesse adesso nel seguente caso di studio possiamo vedere lo seguente in un primo punto vedremo lo sviluppo narrativo dell'utente nella piattaforma che sarebbe la cosa più evidente nel secondo la sua trasformazione spirituale morale o esistenziale che viene vissuta attraverso un discorso sempre più poetico e questo faccio qui un chiarimento c'è la narrazione del gioco è lì il racconto la persona fa quello che qualsiasi altro giocatore o qualsiasi altro utente può fare in una comunità virtuale come Second Life o in un gioco come Minecraft ma attraverso l'avatar possiamo vedere una una trasformazione o un'altra un'altra tipa di narrativa molto non nascosta ma che che e questo possiamo soltanto capirlo attraverso il concetto del linguaggio poetico che di cui parlerò dopo quindi in un primo livello lo sviluppo narrativo dell'utente nel secondo livello la trasformazione spirituale morale o esistenziale che soffre l'utente attraverso l'avatar e come ultima parte la ritualizzazione della piattaforma questo perché è il mezzo dove la persona che la persona sceglie per narrarsi e enunciarci quindi magari a differenza di altri tipi di esperienze qui le persone in certo senso ritualizzano questi questi spazi creano una specie di spazio sacro perché è giustamente il posto dove attorno a tutto l'ambiente virtuale del gioco la interfaccia normale loro utilizzano questi spazi per creare questo tipo di esperienze per fare dei racconti per avere questa interazione che sono questi tre livelli dove io vorrei fermarmi dopo per fare un analisi quindi il primo sarebbe Mark Pesch Mark Pesch è stato uno delle prime esponenti di questa spiritualità digitale anche che possiamo capire come tecnopaganesimo ma che praticamente rispondeva un po' a un tecnoanimismo durante gli anni 90 per lui praticamente attraverso la programmazione algoritmica ha potuto creare o sviluppare la sua propria esperienza la conoscenza di se stesso come un essere umano che abitava la rete ma anche come attraverso questi tipi di attività come la programmazione algoritmica lui creava una sorta di contatto con il sacro non menzionava che tipo di spiritualità era in un inizio ma per lui già queste attività avevano una carica spirituale molto forte e questo che è molto interessante è come non parliamo qui di magari faceva un rituale o altri tipi di attività molto più legato con o che possiamo distinguere come appartenente allo religioso lui faceva programmazione e quindi come mai da lavorare con gli algoritmi a diciamo avere una sorta di esperienza mistica come questo è successo giustamente attraverso il suo contatto molto intimo e molto raccorrente con questo con i dispositivi computazionali dove lui dice non c'è una differenza di spazio e nelle sue scritture perché lui ha sviluppato una sorta di blog certo questo è molto vecchio lo possiamo vedere per la per la per la grafica e quello che faceva era che attraverso il codico che lui sviluppava ma anche scrivendo in questi tipi di 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 blog raccontava come aveva questa sorta di contatto con le deità e come attraverso il codico che lui sviluppava poteva portare lo luminoso all'ambiente digitale quindi l'ambiente digitale era come un ambiente era come un altro mondo aperto dove potevi avere delle esperienze di carattere spirituali parlo di pesce prima perché penso che lui è stato il primo in non fare una migrazione del discorso spiritual religioso all'ambiente digitale non ha fatto una migrazione lui ha creato attraverso questa erramente la sua propria esperienza il suo proprio modo di collegarsi con lo sacro facendo un racconto molto particolare ma che alla fine è un racconto l'altro caso è questo di Minecraft Minecraft è un gioco di mondo aperto che concede al giocatore una grande libertà in termini di scelta del proprio modo di giocare i giocatori sono liberi di muoversi nel loro ambiente e modificano creando recogliendo e trasportando i blocchi che compongono il diciamo questo mondo virtuale e il fine di questo gioco è semplicemente sopravvivere nel senso non c'è un oggettivo unico è un gioco di mondo aperto quello che devi fare è semplicemente sopravvivere voglio estrarre cacciare costruire qualsiasi tipi di strutture seminare e anche fare magia non importa tu soltanto devi sopravvivere Minecraft possiede il suo proprio ciclo di tempo e di giorno e di sera dove una giornata equivale più o meno a 20 minuti dalla nostra realtà quindi all'essere aperto che non hai un oggettivo tanti giocatori anche di diciamo complire o fare quello che il gioco ti chiede utilizzano questi spazi per sviluppare altari o altri tipi di cose che parlano sui propri desideri spirituali alcuni giocatori infatti offrono le loro attività alle deità o alla strada spirituale che hanno scelto per esempio possono dedicare la fucina a Efesto cacciare gli animali locali per Artimide esplorare il mondo sotterraneo per Aden eccetera in questo caso i giochi digitali funzionano come uno spazio sacramentale a causa dell'adattamento di simboli rituali e pratiche all'interno dell'ambiente virtuale in tutte queste espressioni religiose all'interno di Minecraft che sono molto particolari perché lo fanno senza nessun oggettivo ultimo loro non devono farlo ma comunque comunque lo fanno e uno di questi casi che è davvero molto curioso è del di Jeremy Smith lui mentre cammina lo vedremo adesso mentre fa dell'attività normale parla di Gesù mentre apre un tunnel per fare qualsiasi altra cosa all'interno della narrativa del gioco lui ti dice come mai puoi sviluppare la tua connessione con Dio come puoi farlo per migliorare come persona eccetera mentre simultaneamente esplora il gioco quindi ti parla della teologia cristiana mentre gioca vi farò un salto al all right guys we are back on the minecraft server with church mag how have you guys been it's been a couple of minutes since we last seen each other in fact i want to make that the focus of doing build designs and trying to be creative with that process we're not going to have any of those on this channel at least for now we're just going to focus on the minecraft theology which means we're going to have a lot of theological talks we're going to talk about some stuff that's happening in current life of how gamers can kind of respond to different things whatever it be for church tech for just that average person who loves to be a nerd and what does our faith what is scripture what does God's presence mean for all of that so we wanted us to be kind of a family friendly process but also at the same time realizing that our audience ranges from six-year-olds to I think I had someone that was 58 talk to me a couple of weeks ago asking hey where's the series at are we going to continue doing this we are going to continue doing this so we'll continue with the let's plays or we'll continue with the minecraft theology but not necessarily the let's plays and the reason for that is it takes a lot of work to be able to do those let's plays that are not going to go away but if you want to but we'll continue and we'll come to the second but before we continue it's just what I wanted to explain the discorso that he does he does he does he does he talks about his own spiritual path how did he want to do this how did he want to develop this connection with God while he plays and he plays and he plays that he doesn't have anything to do but he talks about his own experience he talks about how this type of experience in which these types of spaces he helps to reflect on his teachings I don't know if that word exists excuse me to Christians and how this helps to strengthen his own spiritual and now we're at the second video always of him all right guys we are back on the minecraft server with church mag and I am over at my house I wanted to show off just a little bit of what I've been doing first of all let me take necessarily conversation starters so if you don't know what discernment is discernment is being able to wisely understand and have a conversation about something discernment is not hey google something for two seconds and I rationally upset and so I'm just going to give you the top of my head answer that's not discernment discernment is sitting down having a productive conversation with somebody praying about it thinking about what's going on in their life and very slow to decide what's going to happen and very intentional about listening to the parties and talking about what's going on but specifically within Christian discernment is in prayer and talking with God about it asking what he specifically wants because ultimately that's what is most important is what God wants for us and what we need to be doing for him I think when we talk about discernment though that there's this understanding that maybe we already have the answer to this no the bible does not talk about video games I'm not going to pull a bible verse out that says the bible says that you should play co-op and I'll shout not play I'll stop because otherwise we have too time but I wanted to express this this type of discourses that Smith develops through Minecraft and that cannot exist without Minecraft even if it is not at all involved with what he does there are an expression they are the result of this intercension between the video and the spirituality of him this is not nothing to do with Minecraft theology but it is also to show you how the religious narrative is also very strong here and how many players do this activities where there are some of the religious not very connected to what we are today but it is also interesting how the narrative is so important and even if the religious is not fundamental of Minecraft for many players it is practically the nucleus of what they do now ADESSA il prossimo il terzo caso che era questo second life possiamo capirlo o intenderlo come un banco di memoria in tutti i sensi. Second Life è veramente come una casa, come un fosso dove tante persone vivono e rimangono lì tutte le sue esperienze, tutte le cose che fanno con altri giocatori e quando possono assistere a corsi, possono fare delle lezioni, possono fare un po' di dating e anche la parte religiosa che è molto molto importante qui. Questo non è nuovo, Second Life è vecchio e già ci sono tanti tanti studi sul tema spirituale in Second Life, ma volevo giustamente fare un po' di attenzione su come possiamo capire questo tipo di racconti fra la comunità virtuale e l'esperienza spirituale del giocatore in questo insieme, che non possono esistere senza questa relazione fra il gioco e l'utente. Quindi in Second Life c'è il caso di questa utente, questo usuario, che lei ha, diciamo che può essere chiamata come una cyber witch, segue una religione neopagana, non specifica qual è la sua tradizione, ma lei fa questi vidi dove parla della sua propria spiritualità, parla delle celebrazioni religiose che fa, parla su come lei come persona si sente più forte, si sente più collegata alle deità, giustamente attraverso uno il suo avatar e le cose che fa qui. Quindi quello che lei fa nel mondo fisico-materiale non è importante. La sua relazione, correlazione con lo divino nasce di questo tipo di performance che lei sviluppa in Second Life. Quindi qui possiamo vedere un po', non vado direttamente per non farlo troppo lungo. Sto facendo una di questa è di questo, per questo incontro, fatto questo? Toste questo, questa è Carta, alexis Nightlinger, qui non è me. Ma persone in Second Life creano stendere avatare di loro in questo modo che gli aspetti e gli aspetti di cui knowni, quindi ti amo per creare, sono molto carriazionato. So, making a character with a backstory and a whole persona was the 1st thing I was going to do. If I wanted to look at myself, I could do that without being in a virtual world. She is an extension of me, though. We do have a lot of things in common. You can read Alexis's backstory in the description below. I'm not going to go all into that. It's all below in the description box. Because Alexis is a character. A lot of what I will be doing with her will be role play. Like I said, she has a backstory in 2nd life. I'm also active and be you for those not familiar with 2nd life. I would explain. All of that more in other videos, but for now, be you is a way to farm craft. Cook have a profession. It's kind of like the Sims. If you're familiar with the Sims in that you have stats. That you have to keep up with like energy. On, uh, and up with, uh. Go on yourself and things like that. All of that. So, Alexis is a be pharmacist. She owns an apothecary. She's also a be, which. And conjures potions using the magical plants and culture. She also has a farm as you can see here. She owns a home. She. I have no idea how many emails I get or how many times I hear from people. during readings about how they feel stuck in their spiritual life. Well, that's because they are afraid to change things up. I say this all the time. You have to change things up. You have to be able to not be afraid to do something different. And people are afraid to do something totally different and something new. Okay. Ok. Lo fermo qui perché mi sembra che è un po' lungo già. Ehm. Anche se non è il migliore video per far vedere un po' la... questi racconti spirituali che lei fa. basicamente è questo. Lei parla mentre fa delle attività normali che il suo personaggio adesso fa in Second Life, ma parla molto su come lei, come individuo, ha cresciuto sul corso spirituale neopagano e che giustamente attraverso questa sorta di esperienze in Second Life, lei ha costruito una connessione con la divinità che nel senso fisico materiale non era possibile. Questo che non ho potuto prendere il video per problemi del copyright, ma è anche un altro utente che fa di queste riunioni su il buddismo e come per lui è stato importante per sviluppare la propria vita, ma anche fa delle lezioni a altri utenti che frequentano questo passaggio di Second Life. Adesso tutto quello che abbiamo visto in queste case studi, come ho detto anche all'inizio, possiamo capirlo dalla condizione cyborg. Cyborg perché prima c'è il componente dell'ibridazione tra il racconto e l'esperienza spirituale all'interno di questi mezzi e anche di quello che magari all'inizio poteva sembrare un po' posto, un po' dicotomico, invece creano questi discorsi molto creativi, dove possiamo vedere delle costruzioni di significazione molto molto ricchi. La condizione, questo che abbiamo visto, anche non è dal tutto un'autobiografia spirituale al 100% che l'individuo ti racconta un po' su tutti gli etapi o la parte della loro vita, ma si ferma in quegli punti che per loro sono stati, diciamo, delle più importanti giustamente per a costruire tutta questa narrazione che ci presentano fra la propria estetica e la propria interfaccia, il discorso che dicono e l'azione che fanno. Quindi c'è come una scelta di cose del passato, della memoria, della propria esperienza e di quello che possiamo trovare nel gioco come Minecraft o in Second Life per costruire un po' questa narrazione con tanti elementi di fizione, anche perché l'avatar non è reale, nel senso che le esperienze sono reali, ma l'avatar non hanno la storia che loro hanno, né fisicamente, né anche come qualità, eccetera. E quindi c'è questa narrazione in prima persona con tanti elementi fizionali, atemporale, dove la cosa più importante è il percorso spirituale dell'utente. Una delle cose anche più importanti qui è la relazione avatar-utente di nuovo. Vediamo qui un doppio lavoro. Da un lato i processi vissuti dall'utente fisico, dall'altro tutte le attività portate avanti dall'avatar, il soggetto incarnato nell'universo virtuale. Il secondo sarebbe la trasformazione enunziata dal primo, la sua esperienza narrata da un secondo che è sempre se stesso, nel senso l'esperienza del giocatore attraverso l'avatar. Per alcuni residenti di Second Life, i loro avatar sono se stessi e le azioni dei loro avatar potrebbero essere considerate come vere. Come la ragazza che abbiamo visto in Second Life, che lei ha detto, anche se l'essa è una creazione, lei è un'estensione mia. A questo proposito le narrazioni e pratiche degli utenti attraverso il loro avatar sono autentiche e valide. L'avatar quindi, come assicura Andrea Pinotti, funge da operatore di identità che consente un numero virtualmente infinito di negoziazioni. Esso permette quella esperienza peculiare che è stata denominata autoempatia, la possibilità cioè di empatizzare con l'altro in me, di assumere la prospettiva sul mondo come da un punto di vista esterno al mio, eppure sempre in qualche modo mio. Gli avatar sono delle rappresentazioni grafiche che fungono da procuratori digitali tramite i quali gli utenti di internet, di una comunità cyber o di un'interfaccia informatica, come nel caso del videogames, abita e interagisce con altri utenti o altre entità digitale, che è per quello che abbiamo parlato all'inizio di AniMismo, di questa relazione con altre entità non organiche che sono lì, ma hanno una funzione importante nel racconto. L'esperienza del soggetto incarnato con l'avatar non solo ci mostra il sviluppo spirituale dell'utente, ma anche la ritualizzazione della piattaforma. E questa è una cosa anche molto interessante, come indistintamente della piattaforma che queste persone utilizzano, tendono a creare come una specie di spazio sacro, dove c'è qualcosa lì che separa questo spazio dal resto dell'ambiente digitale dove si sviluppa l'azione, sia con un altare, sia con un testo o qualcosa, ma la piattaforma, quello spazio dove loro sviluppano tutte le azioni e diventa in certo senso sacro. Anche perché, ecco, se a differenza di quell'esterno profano e anche sempre lo stesso spazio, questo è, diciamo, ha la divinità intorno. E quindi, certo, parliamo di che c'è una ritualizzazione dello spazio perché la comunicazione o qualsiasi altra cosa, scusatemi, il performance diventa più importante dall'utilizzo o il senso pratico dello spazio. Anche io ho detto questo prima, mi piacerebbe ritornare un po'. E non è importante l'atto spirituale in nessuna di queste piattaforme. La piattaforma non ti lo chiede, il gioco non ti lo chiede, non avrai una ricompensa, non c'è niente in più. E il fine ultimo è semplicemente il performance, questa pratica. E in certo senso possiamo dire che troviamo un po' quello che Mircea Eliade chiamava come la ierofania, dove possiamo trovare il sacro in oggetti magari visti come triviali. Nel mondo naturale possiamo, quello si vedeva tantissimo magari in un albero o una rocca, qui, ritornando al concetto di animismo, possiamo trovarlo in qualsiasi elemento digitale di questi spazi. Finalmente, e già per entrare alla, diciamo, la parte finale di analisi di questa presentazione, ho parlato all'inizio che per capire un po' questo fuori del contesto ludico o dell'uso che altri utenti gli danno a queste piattaforme, quando diciamo che hanno un fine spirituale o un utilizzo spirituale possiamo capirlo anche dal concetto di linguaggio simbolico di cui ci parla Cristeva. Questi testi che abbiamo già assaminato possiamo capirli all'interno di una infinita produttività di significato attraverso i processi intertestuali che caratterizzano ogni testo. Ciò significa che non possiamo chiudere questi fenomeni come qualcosa di specifico, non possiamo dargli un concetto ultimo e chiuso a questi casi studi non sono un gioco, non sono una celebrazione spirituale completa e assoluta. Al contrario, in questo processo di scrittura e svolto dal soggetto attraverso il suo avatar, il linguaggio assume un ruolo sempre più poetico attraverso operazioni fluidi che non seguono alcun oggettivo specifico. Pertanto, analizzando come quel senso spirituale che emerge nel contesto online generato da un soggetto che si enuncia generalmente tramite un avatar, ci troviamo immersi in un linguaggio poetico che non cerca solo di comunicare o rappresentare un poiché senza seguire alcune leggi che trasforma il linguaggio in una macchina significativa di produzione continua. Qua mi scuso se non posso esprimere di un modo benissimo la idea ma praticamente quello che voglio dire è che il linguaggio poetico che si sviluppa in questi casi in questi performance trasforma l'utilizzo dove l'unico fine è la comunicazione lo trasforma trasforma quel tipo di linguaggio e lo converte in una macchina di produzione continua dove non possiamo semplicemente chiuderli in un concetto ultimo non c'è un concetto ultimo quello che abbiamo lì è una produzione costante di senso quindi qui convivono molte modalità di senso adesso per Cristeva lei dice una cosa molto interessante per capire il linguaggio poetico quello che si sviluppa in questi performance in questi casi studi convivono due modalità che non possono essere separati lo semiotico e lo simbolico non vorrei entrare molto nella teoria perché sarebbe prendere troppo tempo e magari fare diventare il discorso molto complesso ma quando lei parla che in qualsiasi processo di significazione troviamo la parte semiotica e la parte simbolica e che questi non possono essere separati quello che lei dice è che attraverso l'articolazione eterogenea del semiotico e del simbolico dove il semiotico sarebbe tutto questo prima del linguaggio nel senso quello che non si articula come un discorso coerente eterogeneo e invece il simbolico sarebbe il discorso intellegibile coerente fatto legge quindi in qualsiasi processo di comunicazione abbiamo questa parte che si enuncia lo simbolico quello che può essere capito come una comunicazione lineare con un soggetto con un fine ultimo eccetera e la parte semiotica la parte semiotica risponde di più alla parte poetica è quella parte che non segue nessuna legge è molto eterogenea è molto cambiante e non ha un significato che lo chiuda quando Cristela ci parla di questo e per quello che ho voluto mostrarvi un secondo questa parte della sua teoria era semplicemente per capire come nel linguaggio poetico abbiamo di più la parte semiotica che la parte simbolica e per quello che questi tipo di casi che abbiamo visto non hanno già un fine comunicativo un fine che segue il racconto o la narrativa del gioco dove si può capire in qualsiasi modo quello che l'utente fa qui quello che possiamo vedere invece è una supremacia della parte simbolica della parte che alla fine è più come un desiderio come una una specie di ecco di desiderio che l'usuario vuole mettere lì anche se non è obbligatorio e che non segue nessun tipo di comunicazione o che non ha un fin comunicativo il linguaggio poetico quindi desafia la forma del linguaggio omogeneo e comunmente accettato per essere un veicolo del significato e della comunicazione ma possiamo dire perché chiamare questo del linguaggio poetico e dopo dire che risponde alla autobiografia spirituale o diciamo a una specie di desiderio o intenzione spirituale questo possiamo capirlo un po' con la poetica di Octavio Paz che fa una correlazione fra la esperienza poetica con la esperienza spirituale quindi per Octavio Paz che era un poeta e scrittore messicano la esperienza poetica porta a una specie di rivelazione questa sorta di rivelazione poetica che lui assomiglia all'esperienza spirituale non c'è fuori della per esempio della parte rutinaria della nostra vita non è che per avere un'esperienza poetica dobbiamo andare a un altro posto o fare altre cose diverse l'esperienza poetica emane del nostro giorno quotidiano e questa esperienza poetica non ha bisogno di un futuro di un mistico o di qualcosa per forza trascendentale l'esperienza poetica si svolge nel presente nel fare nel performance del momento nel qui e nell'adesso e quindi non possiamo parlare che in questi casi che abbiamo visto l'esperienza poetica avia o segua semplicemente una specie di fine ultimo che è basicamente quello che già ho detto prima è semplicemente il disfrute il desiderio il vivere questa esperienza del presente io volevo qui mostrare anche un po' delle scritte di Paz che parlano di questo che vorrei trasmittere dove lui dice praticamente che nella revelazione poetica il momento prende forma attraverso una prospettiva personale e culturale quindi è molto intimo creare un discorso attraverso gli interessi che uno ha in quel momento attraverso i propri desideri i propri interessi spirituali collegato certo al tema che stiamo parlando e niente questo sarebbe basicamente il legame fra quello che Cristeva chiama il linguaggio poetico con l'esperienza spirituale che si vuole trasmittere in questi tipi di casi studi e per finire spero che non abbia portato troppo tempo questa spiegazione questo studio ha cercato di analizzare l'implicazione del modello autobiografico o dell'autobiografia spirituale in particolare in relazione allo sviluppo spirituale dell'usuario all'interno delle reti digitali attraverso la relazione soggetto avatar plataforma digitale è possibile trovare un linguaggio poetico che si riferisce a qualcosa altro allo sacro a quello che può essere capito come un'esperienza spirituale i fatti sono un po' diciamo fizionati non so come si pronuncia ma vabbè i fatti non sono fatti veri i fatti che seguono una realtà ma invece sono immersivi profondamente interattivi con tanti elementi fizionali questo è il motivo per cui non deve esserci una forte corrispondenza tra ciò che è realmente accaduto e ciò che è scritto e come non deve essere una forte corrispondenza tra quello che queste persone ci parlano e ci trasmettono con quello che è la realtà o neanche una corrispondenza con l'attività che loro sfungono con il loro avatar con quello che davvero capita nella vita che possiamo chiamare reale ciò che si propone è quello che sarebbe la parte importante è dichiarire quella trasformazione che il credente soffre o vive e come applica questi cambiamenti e insegnamenti al proprio avatar quindi alla fine l'importante è il racconto che l'utente porta avanti attraverso attraverso la sua rappresentazione grafica anche chiamata avatar e come questo possiamo capirlo come una specie di racconto translinguigico di un'esperienza che non è un'esperienza triviale è un'esperienza che si riferisce a un altro a un'altra cosa e che può essere alla fine capita come spirituale a questo proposito il fatto di considerare che non possono essere presenti autentiche attività religiose o spirituali in questo scenario un po' pop culturale iperconnesso e mediato dal digitale non sarebbe giusto considerando non sarebbe giusto considerando le varie manifestazioni emergenti nelle diverse narrazioni nelle diversi medi e delle pratiche contemporanee c'è un bisogno universale di significato di attribuire una coerenza un senso di appartenenza e di unione le attività spirituali sono una costante nelle dinamiche online in cui gli utenti si riadattano e migrano determinate pratiche o semplicemente creano dei performance una volta incorporate queste pratiche nel contesto online alle pratiche e discorsi sviluppati sono permeati dall'ambiente digitale che li ospita appropriandosi delle proprie condizioni e mitologie un esempio è quello che abbiamo visto nel campo di bibliogiochi che non è solo un universo molto presente nell'ambiente digitale e nella industria dell'intertenimento informatico ma è anche venuto a proteggere e a diciamo esprimere tante pratiche di interazione religiose e atti rituali e già con questo concludo spero che davvero si abbia capito perché ho fatto un po' di fatica con alcune con alcune con alcune parte della della esposizione ma è già per per di nuovo sottolineare la idea principale l'importante qui è questi racconti che si costrucono attraverso la relazione dell'utente con qualsiasi mezzo come può essere l'avatar e come abbiamo questi diversi livelli di racconti il racconto del gioco o della 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 piattaforma più la trasformazione spirituale che si vive attraverso dello stesso avatar o della stessa piattaforma grazie mille e posso interrompere la condivisione grazie mille